Moltissime persone hanno un rettaggio di questi rituali intorno al fuoco Ricordiamoci sempre, proprio soltanto alla tradizione anche dei vari... Vi arrogo e leoni! Bene, e dopo? Ah insomma, come vedete... Ciao! Che trovasse tutto il satan... E beh, ma tu pensa, Franco ci va a nozze che stanno volendo là in internet, eh? Che scatta subito, si parla degli antichi riti, che scatta subito a mona... Anche perché tutto quanto va a coincidere in quello che è il movimento nazionale, no? Cioè le discussioni che sono in corso, capisci? E' un'ingerenza, un'ingerenza dello Stato Vaticano che è vergognosa, che è veramente vergognosa... Ivan, ti parlavi di un libro che sta per uscire... Sì, sì, esatto, posto, telefonate... Però dilla ai nostri scontatori, cioè che già il titolo è importante... Digo subito, digo subito... Dunque, si tratta di un saggio, di un pamflet di Pier Giorgio o di Freddy... Il titolo è, aspettate che qua ho poco a luce, il titolo è, ecco qua, dunque, Pier Giorgio di Frezzi, perché non possiamo essere cristiani, e tra parentesi, e meno che mai cattolici, in uscita oggi da Longanesi, pagine 240, euro 16, dunque, non rega, se uno guarda il costo, se uno guarda solo quel costo, leggo il titolo che è bello, leggo il titolo, dunque, Pier Giorgio o di Frezzi, perché non possiamo essere cristiani, tra parentesi, e meno che ma i cattolici. Lui nel 96 lo dicevamo. E ho letto un articolo, dunque un bel articolo, dove è il colonne, con una figura, con una fotografia in mezzo, che è sul banco di Rosario, con un tot tre, con Rosario, ma è la critica della ragione cristiana di Giovanni Filoramo, parla molto bene, un bel articolo, scritto bene, almeno che, dopo che sia un po' di ironia, ma non nel senso anti o di Frezzi, diciamo, però che sia, scritto bene, scritto bene l'articolo, cioè, va appena a leserlo tutto l'articolo, e... Per adesso Repubblica? Repubblica di oggi, sì. Di oggi, eh beh, poi ci vanno per trasmissione e porterò l'articolo. Dopo domande, domande che vedo, dunque, con la Repubblica e l'Espresso, 7,90 euro in più, le nozze di Cadmo e Armonia, di Sarasso, mio, c'è già questo, ma adesso, chi interessa, magari, è in ammonata, 7,90 euro più i giorni... Sì, infatti, è in ammonata. E dopo quasi il mistero della lupa, lupa di Roma, che dice che è medievale, un certo Adriano, la regina, dice che sta, lavorebbe medievale. Sì, c'è un tipo di lavorazione che hanno scoperto sulla lupa, un tipo di saldature che sono... Beh, ma già si sapeva che i gemelli erano stati aggiunti in epoca tarda. Sì, nella pagina qua, e ora... Comunque... Sì, ma nulla toglie il simbolismo della lupa, era quella lupa che è stata costruita in tempi diversi, in modi diversi. In Spagna hanno dato il via all'eutanasia, fatto presto, non è l'eutanasia come legge, però il diritto di non proseguire le cure come se... E poi hai il diritto di non proseguire le cure con l'assistenza per evitare il dolore e la sofferenza. Per questo è importante, che non è avere la propria eutanasia, è una scelta della persona. Dopo che saria tante belle notizie, comunque sui Corriere della Sera e Repubblica, che sei dei bei... Beh, già che esca un libro, un grosso titolo, è già significativo. Si ha fatto l'oddi freddi, che bene o male, insomma... No, è tre mesi, vuoi adesso che te fanno... Adesso, tu me te fanno... E' appena arrivato... Vieni via tu e vuoi te subito... Questo è importante, perché ti dico, questo è un dibattito nazionale che è potentissimo, perché io vedo anche sui miei siti, no? Cioè io ho una pagina con dei link, Gesù di Nazareth è l'infamia umana, e questa qua, a parte il fatto che è storica, è in internet dal 99, però ha avuto 500 aperture il mese scorso, capisci? Per cui... Questo qua non ha paura che, per esempio, Ariel Toaf, cioè di essere pressati, disemotare, va bene che... Ma Ariel Toaf per me l'ha fatta molto sporca, cioè non è che effettivamente... Cioè io critico l'ebraismo e il cristianesimo, capisci? Però non posso accettare pervere le dichiarazioni estorte sotto tortura da chi voleva bruciarli vivi, capisci? Cioè non lo posso accettare sta roba, assolutamente, cioè no, esiste un modo di comportarsi, un modo di attaccare che deve essere serio, non può essere vigliaco, capisci? Esatto, comunque sempre parlando di teoria dei libri, comunque bisogna che il libro esca in ogni caso, perché secondo me, secondo ti cosa ti dici? No, allora, se questo libro mi dà le dichiarazioni di chi è stato torturato e dichiarazioni sotto tortura, a me, per me sono preziose, ma non perché questi fatti siano avvenuti, ma per vedere le distorsioni che fa la Chiesa Cattolica per poter macellare le persone, capito? Dice Gart Lerner oggi, sempre su Repubblica, Gart Lerner fa il stesso discorso perché fa... Esatto, cioè no, ma guarda che quello che diciamo noi per sta radio, dal punto di vista culturale e nazionale, è una cosa importante, non è una sciocchezza, capisci? Siamo, è partito dalla Spagna, la cosa, la congiura contro gli ebrei, del sangue di bambini, è partito tutto dalla Spagna? Ben, dalla Spagna è partito molto prima perché io ho delle leggi di Galla Placidia, ai tempi di Onorio, siamo 3-400 d.C., che sono anti-ebraiche in maniera pesantissima. Dopo Segar concentrà in 10-15 anni, dunque ci sono stati qua 7-8 qua in giro intorno al Veneto, Trentino? Sì, Simonino, Simonino, Beato, Lorenzino, dopo un altro a Paolo Lorenzino, Simonino, Lorenzino, poi c'è un altro a Sebastiano Novello, da Porto Bufolè. Sì, da Rovigotto, sì. Sì, sì, sì. In ogni caso, non me lo scherzi, tu, quando esiste da che lato... Tu pensa che uno di questi bambini ammazzati, no? Che furono trovati sotto, avvenne a far l'inchiesta un prelato da Genova. E il prelato da Genova disse, no, questo poi gli occupai dei farabutti, e li ha anche scoperti quali erano, è stato linciato, cacciato via, perché volevano farlo santo, perché dovevano perseguire gli ebrei. Eh, perseguire gli ebrei, esatto, non è così la storia, cacciato via, c'è un altro libro che anche Francesco teoria cattiva, era quello di, come si chiama, sempre sulla... L'accusa del sangue. Sì, l'accusa del sangue, sì. Anche quello, più o meno è uguale, insomma, non so come che sia adesso, comunque... Non si può aggredire le persone inventando accuse, assolutamente. No, è un'accusa, è un'accusa atroce, scherzo, è stata una persecuzione che si durava mille, mille anni. Anche perché questi deficienti di cristiani avvallavano le loro accuse, quel sacrificio di Abramo, che è a fondamento del cristianesimo. Sì, è a fondamento, sì, che è una base, sì, appunto. Sì, appunto. Dopo, tornando alle cose, alle batti masso, mi ricordo che fino alla bocetta, avevo 3, 4, 5 anni, andavo fuori a quei agito, con quei campane, dei vacchi, i campanacci, e andavo fuori a scoprire l'erba, così mi ricordo come fosse adesso, fino a 10, 12 anni, dopo, basta, e sbattere così l'erba, così, dopo, molto, molto in là, mi domandai, insomma, da quando che si è partito, non mi ricordo, allora non mi interessavo, insomma, però, se, penso a me che sia altissimo, anche questo, e ancora sarebbe il primo marzo, se il calendario romano, se il capodanno, penso. Primo calendario, sì, il più vecchio. Sì, cominciava la primavera, no? Cominciava i riti, i riti del coso, i riti dell'apertura della stagione. Dopo, l'ultimo passo, i riti dei trovati microrganismi vecchi di 220 milioni di anni, nei fossili dentro gocce di ambra cortina, dentro le gocce di ambra dei pini, nei pini di cortina, insomma, vecchi di 220 milioni di anni. Quando ci dicono, ma dai, scusa, sai benissimo che io ho parlato il mondo. Ma che ho parlato il mondo, 5 mila anni, 5 mila anni a Anticristo, come è possibile? 4.600 di Anticristo, lunedì ho cominciato a fare, sì, martedì ho fatto, sì. Ma ne siamo direte, i numeri, non mi ricordo. Scusa un attimo, ma sai, sono gli inganni del demonio. Il demonio per ingannare l'uomo e allontanarlo dall'idea della creazione, ha spanto tutta una serie di indizi per indurre a questa idea peccaminosa. Dopo che sei parla alle pubbliche oggette dell'Anticristo che influenza i pacifisti, cioè che sei, che ha figuri di pacifismo alla figura dell'Anticristo, cioè sei dentro impregnato nel pacifismo. Ah, ecco, sei l'Anticristo ma il pacifista, che rompirò. Il divino che ha perso la testa. Ah, sì, vai dai, vai dai, effettivamente impazziranno qualcuno. Come es, sì, restatezza, ma sta... Vai dai, vai dai. Quando noi non vediamo altre notizie ma siamo facili, ah. Sì, mi scopo. Vai dai, dai. È, nada, calmo mai, che pu, a donna e le altre depe. Ah, vai dai. no 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 una informazione di me cioè il libro di audio se non vai appena insomma prendere secondo voi ah lo so per me tutto quello che potrei comprare compro solo che ormai schemi non me ne go più sono disoccupato e voglio neanche abbristare il mio per cui è anche qui perché adesso bisogna stare attento cioè non posso neanche più sforare più di tanto adesso e anche per selezionare devi prendere dopo una roba di qualità perché se non rieschi di tirarti su un sacco di cose che poi tante volte sono cose tritte, ritritte, rifatte ripresentate bene ma cose che uno che ha una passione per la storia ha già acquisito, conosce sono ripresentate in maniera diversa un altro libro non da adesso però Giovanni Scarabello Meretrici, storia della prostituzione a Venezia tra il XIII e il XIII secolo Carabello, supernova e dopo che c'è il Tascabile qua è Eretica i libri proibiti quattro secoli di censura cattolica di Benito Lamantia di Gabriella Cucca la roba interessante dei libri proibiti dell'indice dei libri proibiti sembra avere l'elenco che è una roba mostruosa se l'index dei libri proibiti che sono volume e volume a me c'è volume tre mesi scaffa e scaffa tu non te vengi dentro non va dentro neanche ma anche se lo conosce l'elenco degli libri proibiti penso che non si renderebbe conto della follia cristiana sì sì ciao bene ciao buona giornata buona giornata ciao 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 eh sì questo libro appunto di Odifreddi che parla di perché non possiamo essere né cristiani di tanto meno cattolici significa che c'è già un bel messaggio lanciato una bella informazione ciao intanto volevo salutarvi a tutti e due grazie e fare i complimenti così facciamo pari con tutti quelli che vi danno conto e dopo volevo solo fare una notazione anche l'epifania che comunque è stata ripresa dai cristiani è una festa pagana tutte ed è una cosa che si usava almeno che io mi ricordo anche fin da piccolo per vedere come buttava l'anno ti racconta che dico sì esatto poi un'altra considerazione su quello che hai detto adesso sul discorso del cristianesimo una considerazione cioè se come dice a volte anche Frego Cararo i cattolici hanno in mano il 60% delle risorse mondiali se è così è ovvio che loro avendo questo potere in mano possono anche far realizzare quelle che sono le profezie che sono scritte sulla Bibbia tipo l'Apocalisse tipo altre cose insomma sì diciamo che possono fare dei grandi disastri ma arrivare all'Apocalisse insomma mi sembra un po' eccessivo o fare degli disastri possono influenzare gli eventi e far vedere che hanno ragione perché hanno un gran potere in mano se possono indirizzare le cose sì sì beh che abbiano capacità di indirizzare le cose e questo è fuori dubbio insomma anzi sì beh poi se basta una bella campagna pubblicitaria ok basta una bella campagna pubblicitaria per cercare di accreditare certe cose basta non filtrare certe notizie a cento anni e altre proprio uno da la Milo Despreziano sì dimmi ciao a tutti due ciao beh cioè le tradizioni così che voi raccontate non le ho vissute perché io sono nel 48 io ero in un paese non vivevo proprio in campagna diciamo ma mi ricordo quei tempi di gente che lavorava mezzadria diciamo cioè lasciavano metà del loro sudore al padrone e ancora quei tempi chi andava a prendere su il foraio diciamo l'erba tagliata la domenica non poteva andare perché se lo vedeva il prete aveva finito di far bene e non poteva andare ma comunque dai mi ricordo questa storia qua poveri disgraziati che dopo venivano pioveva il giorno dopo perdevano anche il foraggio insomma beh la storia o donne che venivano lasciate fuori dalla chiesa perché avevano appena partorito fino a pochi anni fa ma dai comunque se andiamo avanti non finiamo più no ma volevo dire io avevo un'idea una percezione di questi tempi che la storia di Gesù sia un'invenzione cioè sia tutta un costruito tutta una serie di palchetti di castelletti intorno ma sia tutta una enorme buesia insomma dire anche che Gesù è falso Gesù è un assassino questo è quello diciamo potremmo dire più precisamente quello che hanno costruito attorno è tutta una facilità è tutto un assassino perché cioè io la vedrei un attimo in questo senso non so va bene e dopo chiudo un discorso sentivo l'altro giorno e forse divavo un attimo rientro subito dopo che veniva giù l'ambasciatore americano e parlava con il vescovo di Vicenza un paio di giorni fa probabilmente per il discorso della base che dovevo fare allora io dico questi qua sono tenutari delle grossi misteri della coscienza del mondo di Dio di chissà quali misteri si fanno addirittura diciamo intermediari tra noi e Dio e ci perdonano i peccati e ci mandano di là cioè cose trascendentali e dopo di quello che si dicono di cose terrene questi due personaggi non ci dicono niente sì penso sia poche cose confronto all'inversità delle cose che dell'universo eh sono poche cose quando si dicono stessi stupido ma forse sono esattamente quelle che non vogliono dirci grazie ragazzi grazie a te auguri ciao beh Claudio se voi ricordiamo sì ricordiamo che dobbiamo chiudere adesso c'è il vise non c'è più tempo dimmi Francesco no i due appuntamenti che allora l'appuntamento è per il giorno 8 marzo per il MUT giovedì via Aureliana via Aureliana e Montegrotto Terme Montegrotto Bar in Boic alle ore 21 21 e 30 no 20 e 30 21 20 e 30 21 e l'altro appuntamento è per sabato 24 marzo presso il Bosco Sacro di Ieso per il rito dell'equinozio di primavera e poi all'apri c'era la cena del musso perciò e poi parleremo un po' alla volta ma almeno che scade un appuntamento parliamo anche di tutti gli altri io vi do appuntamento per le ore 19 continueremo sulla percezione extrasensoriale e naturalmente come vedete il paganismo comunque va avanti e vanno avanti anche le necessità della società civile di uscire dall'orrore cristiano naturalmente ci sarà una reazione violenta da parte della chiesa cattolica ci sarà un tentativo dei laici di radicalizzare anche e di cercare nuove cose e ci saranno i pagani che faranno le loro cose questa è la società civile di adesso naturalmente ognuno mette in piazza quello che ha con i mezzi che ritiene opportuni naturalmente poi tutto sceglie ciao a tutti ciao a tutti e vi do appuntamento per le 19 ciao ciao a tutti